Per me è nato dormire tardi Tra quanto? Tra tre anni Qua è tutto a posto? Sì o no? Fatevi sentire Sani come sembrate spetti Domenica mattina è per me Dobbiamo svegliarlo ragazzi Tutto a posto per agosto? Bene allora niente Io mi vado a cambiare e dopo farò un po' il deficiente Grazie a bombazza Facciamo un bel applauso signore Don però mi raccomando non seguitelo Perchè ci sono tutti i bodyguard Eh non si può fare Non si può fare o si può fare? Non si può fare E non lo so se magari qualcuno ti segue Qualche autografo Eh sì non è ufficiale E' ufficiale Attenzione E' ufficioso Quindi preparando Applausi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.